Sky Wing Fortress Zone Allora L'Ereplanetal si viene colpito Presto Sonic No cazzo Fail Allora Infatti sono caduto di sotto come un coglione Perché Non avevo ancora selezionato l'emulatore bene Ora colpisce i miei comandi un attimo Bene Sveloci saldatevi sul ponte per salvarvi Non preoccupatevi Tails Non è morto Ricomparirà alla fine livello Comunque come vedere senza Tails Ancora una volta Allora Sì me lo sono studiato giusto perché Wing Fortress fa Un po' sclerare eh Ma bisogna Saltare qui sopra Bene Come vedete bisogna In questo livello consiste nello scalare in questa Oh scalare questa Imponente fortezza Allora Qui si sfrutta la pala Salviamo Allora Questi bisogna Questi paletti Ecco quando si mettono in orizzontale Bene Perfetto Non ricordo male Qui c'è Una vita Wow ragazzi Che rumore realistico Che fanno Le eliche di questa zona Ah come non mi ricordo mai Devono esserci tanti computer Ring Nascosti Ah vediamo Attenzione cannoni Si non so bene cosa dire Perché sta zona è solo la seconda volta Che la gioco Ah eccoli i computer Bisogno di prenderli Assolutamente direi Allora si va Bisogna andare qui in alto Fatto Altro computer con i ring Oh quanto la odio Sta zona maledetta Schifoso Ecco sta anche per finire il tempo con supersonic Ma cazzo Allora vediamo Se ci sono altri computer con i ring Ah ecco Perfetto Abbiamo solo 29 secondi 28 Per distruggere questo macchinario Qui Allora sarà impossibile Con sonic non male Perché abbiamo piattaforme Chiodate da di sotto E dobbiamo Saltare su queste piattaforme Evitando i raggi Bene Con Supersonic Sarà abbastanza facile Devo dire Vai Perfetto Ce l'abbiamo fatta Salviamo Bene Sono disattivati gli scudi Eggman è sparito E adesso siete pronti ragazzi Ora Cutschen Epica Per essere un gioco del 92 Guardate un po' che succede Tails ci viene a riprendere Si sale sempre più in alto Fino a raggiungere il razzo di Eggman Niente non ce la faccio Sfugge è troppo veloce No guardate Si sale a un'altezza incredibile Chissà come fa un aeroblennino A salire così in alto E tadam Sonic si aggrappa E si infiltra Nella Dead Egg Zone E sale 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 Fino ad arrivare allo spazio Bene ragazzi Ci stiamo dirigendo E siamo arrivati allo spazio Ci rivediamo alla prossima Con l'ultima zona Il Dead Egg Zone Ciao